Il giovane ex Varese, ricordiamolo, numero 8, è un classe 2004, quindi è un giovanissimo, un lungo importante per Bergamo, deve tirare fuori molta grinta, molta fame, molta voglia. Il giovane ex Varese con due punti dalla sua classica mattonella con il classico movimento di Genovese, intanto altro canestro di Bortolin, la Bergamo Basket rimessa a fondo per un altro ex Mazzucchelli, diciamo ex perché è bergamasco d'origine, allenato già da coach Ciocca alla Blorobica Bergamo dove è cresciuto, non ha giocato alla Bergamo Basket ma è un bergamasco. Un ottimo play. Prova la tripla, Conti, non va, rimbalzo Varota, in qualche modo riesce a rimetterla in campo Mestre e non può far altro che realizzare Bortolin. Mazzucchelli, sotto Bortolin, altri due punti. Genovese, bella finta di tiro su Bortolin, prova lui, non va, Cane da sotto, riesce a prendere l'imbalzo, stoppato, molto bene da Bortolin, molto bravo. Porta palla lui, blocco di Manenti, sfruttato da Sodero, prova ad andare al tiro, non va e non ottiene neanche... Buono il tiro di Bortolin. Qua accompagnata tutta la vita. Rossi, Bortolin, fallo, più Canestro. Molto bravo qua Bortolin a prendersi il fallo di Manenti. Buono il Canestro di Bortolin. Chino numero 20. Bortolin, Rossi. Caversazio, prova, giro a tre, molto bello, non va, rimbalzo è di Bortolin, che realizza da sotto. Facile, facile. Mamma mia, troppo bello da vedere il Sodero. Giocatore di categoria superiore, sicuramente da due, minimo. Vente, bravo. Rota contro Caversazio. Pellicano, sei secondi alla fine del terzo quarto. Caversazio contro Rota, bravo a difendere, prova la tripla a Bortolin. Allo scadere, un lungo come Bortolin. Silenzioso, bravo, preciso, veramente un bel giocatore. Veramente un bel giocatore, molto bravo Bortolin. Difesa forte di Zotta. Rossi. Bortolin sotto, realizza molto bravo.